Nella selezione delle tentate soluzioni identifichi le parole che utilizza. Sì, una persona che usa tanto la parola rispetto perché la usi. Che senso ha nel tuo mondo utilizzare tante volte la parola rispetto? E la usi poi per creare degli aforismi ma in generale delle comunicazioni che abbiano un obiettivo. Ti faccio ad esempio in quel caso delle parafrasi anticipate in cui dico che sei una persona a cui piace moltissimo, che le cose vadano in un certo modo. Io ti immagino ad esempio per strada che sei con la tua macchina, uno ti taglia la strada e tu ti arrabbi tremendamente, vero? E la persona mi dice sì, certo, ok. Quindi per me è una parola grilletto, rispetto, faccio una parafrasi anticipata, quindi una sorta di lettura a freddo. La persona mi dice di sì, capisco che fa parte il club di Valoreali e attacco con tutte le tentate soluzioni del club di Valoreali. Corrispondono, vado avanti e a questo punto il mio lavoro diventa facile. Quindi riassumo per assicurare aver capito. A reala persona la fai parlare per avere un'idea del suo vocabolario, la sua rappresentazione del mondo tramite le parole. E del problema. E del problema. Vedi quali sono delle parole forti, dense, ok, per descrivere il mondo e il problema. Attorno a quella parola ci leghi tutto quello che ci può essere attorno, quindi rispetto la storia del ti stanno sul cazzo, quelli che ti passano e ti tagliano la strada, perché è un qualcosa che si lega bene. Nel momento in cui hai dei feedback che ti dicono sì, li metti in uno dei club psicologici e da lì ci sono legate le tentate soluzioni, quindi magari anche la tua indagine è più facilitata. Ok. E poi il lavoro è smontare le tentate soluzioni, sì. Ok. Fico. Mi piace. E a livello strettamente… Questo è un obbligo, un incastro in cui ho visto che è bene mettermi, ok, perché ogni tanto mi viene anche a me un po' la tentazione di essere molto più narrativo, ok. Però se io mi obbligo a incastrarsi la persona in una narrazione che io gli sto imponendo, ho visto che questo è molto più utile, come quando per esempio in ambito nostro di terapia breve siamo molto affezionati all'interpretazione cibernetica, qual è il rapporto di causalità negli eventi, no. Nell'interpretazione cibernetica come funziona? Che io percepisco una determinata cosa, X, questa percezione mi fa mettere in atto Y, ok. L'ambiente mi risponde in questo modo e questa reazione mi conferma la mia percezione, mi conferma la mia reazione. Questa è la descrizione cibernetica. È vera? Non lo so se è vera. È un incastro. Perché io devo obbligarti a pensare che tutte le volte che tu sgridi tua figlia… E non è vero che tutte le volte lo fai, non importa. Tutte le volte che sgridi sgridi tua figlia perché lei ha fatto… Faccio la descrizione cibernetica. Ogni volta che vedo mia figlia che non mangia un cibo che secondo me è importante, mi sento impotente, questo mi porta a sgridarla o a cercare di renderle appetibile, a venderle il prodotto, il cibo che io voglio che le mangi, lei ogni volta si chiude e mi dice no mamma, non voglio mangiare. Faccio un esempio pratico di una paziente avuto qualche giorno fa, ok. È vero che ogni volta che fai così? No. È vero che ogni volta che hai questa percezione? Neanche. È vero che ogni volta tua figlia fa così? No. Però se tu prendi questo trend e prendi questa descrizione, funziona. Quindi nella tua mente, nella mente della paziente c'è, io ogni volta che cerco di vendere un cibo a mia figlia e darle un'ottima pubblicità, in realtà lo sto squalificando e mia figlia non mangerà quel cibo, ok. Questa è una descrizione cibernetica da cui conseguirà una prescrizione che è non vendere quel cibo, no? Tant'è che Milton Erickson diceva che con i suoi bambini, lui diceva a casa mia è vietato mangiare roba verde. Siete troppo piccoli, roba verde si mangia da una certa età in poi, ok. Quindi vietato, verdure, siete troppo piccoli, mi raccomando. Ok. La prescrizione del sintomo, noi conosciamo già adesso. Certo. Però, come dire, è un incastro benefico. Quindi questa visione matematica, tra virgolette, della simmetria è un incastro benefico. A me piace, a me piace perché, come diciamo anche prima, nel momento in cui metti poi dei costrutti al tuo servizio, tu hai citato James prima, il pragmatismo, no? Von Glasersfeld, no? Ci diceva non deve essere vero, deve essere utile, no? Voglio però capire una cosa a livello proprio comunicativo. Sai, questa posizione mi rende triste. Aspetta. No, 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 metti in una posizione felice. Ok, anch'io. Mi sto in good mind, mi sento di profondare. Ti faccio portare un… Mi sento un po' più. Oh, cambia, la prospettiva cambia. Ok, sì, sì. Carino. Quanto usi l'indiretto e quanto il diretto nella comunicazione? Allora, l'indiretto e il diretto. Allora, anche qui ci sarebbe da esplorare che cosa significa per te diretto e indiretto. Facciamo conto che abbia capito che cosa vuol dire. Allora, diciamo che la reinterpreto nel mio linguaggio, che è quanto sono stretto e quanto sono a maglia larga. Ok. Tendo ad essere molto a maglia stretta nella prima fase dell'intervento, cioè leggo le tentate soluzioni, ci devono essere prescrizioni che bloccano e invertono le tentate soluzioni e questo è fatto in maniera esplicita, ok, ovvero che anche gli aforismi e le immagini che utilizzo sono molto focalizzate là. Ok. Non c'è possibilità di misunderstanding, non è possibile che io ti faccia un'immagine analogica e che tu legga qualcos'altro, no? Ci leggi ciò che io ci sto mettendo. Quindi la prima fase dell'intervento è molto così. C'è una seconda fase in cui allargo molto. Adesso sto utilizzando questo format di One Long Session, Venezia, tre giorni, io e un paziente, in giro per Venezia, meraviglioso, divertentissimo. One Long Session. Andiamo in giro per Venezia, ci mettiamo un tavolino, parliamo, camminiamo e poi per esempio questo è il venerdì, il sabato appuntamento al Guggenheim Museum. Sempre con la stessa persona? Sì, una persona sola per tre giorni. Online? No, Venezia. Non esistono loro, non esistono. No, non esistete. Perché se attacca uno poi gli altri ci si mettono ancora. tre giorni. Quindi sono tre giorni intensivi, tutti attaccati e ad esempio vado appuntamento di obbligo al Guggenheim Museum. Andiamo al Guggenheim e passeggiamo, parliamo, ci sediamo di fronte alla tomba di Guggenheim e dei suoi cagnolini e poi di solito gli faccio fare un giro dentro appunto il museo e ad esempio la prima volta che ho fatto questa One Long Session ho visto che questo cliente, più che paziente, perché si fa coaching più che psicoterapia, era particolarmente estasiato dall'artista e gli ho chiesto di scegliere un quadro che lo colpiva. E siamo rimasti mezz'ora a fargli raccontare che cosa lo ispirava di questo quadro e naturalmente lì ho messo il mio pezzo perché gli ho fatto, creato anch'io delle connessioni rispetto a perché secondo me lui aveva scelto quel quadro, ok? Ed è stato un momento, un'epifania, lui l'ha chiamata un'epifania, tre epifania, un'epifania al giorno mi ha scritto poi una mail e una seconda epifania è stata quando di fronte a questo quadro, perché era disgregato come si sentiva lui disgregato, ok? C'erano pezzi del mare, pezzi della sua infanzia e lì è uno strumento proiettivo in cui a quel punto parte la maglia larga e questa è, al di là della One Long Session, il momento per me fondamentale della terapia. Maglia stretta, maglia larga e poi ci salutiamo. Fai solo queste tre giornate? Così, in questa One Long Session? Sì, 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 fantastico. È bello… C'è una preparazione, mando delle mail di preparazione, devo capire se è giusta il percorso, se è giusta la persona, se gli obiettivi sono concreti, ad alcuni ho detto no, cioè devi fare psicoterapia, questa cosa non è adatta… Come ti è venuta in mente questa cosa? Volevo fare qualcosa e non ha fatto nessuno. … …